Amici sportivi, da Giuseppe Cina il mio concetto benvenuto a questo appuntamento settimanale con Totomarket Scommessa, il primo dei due appuntamenti settimanali che abbiamo in programma. Non è successo niente di particolarmente difficile la scorsa settimana per quanto riguarda i risultati, a parte un po' quella sconfitta netta del Modena in Serie B in casa contro Vicenza, ma che comunque in qualche maniera ci poteva ben stare, visto che il Modena aveva tre squalificati più due infortunati, questa sconfitta era un pochettino nell'aria. Poi pochissimo in campo europeo è successo di strano per quanto riguarda le vostre bollette, i vostri pronostici, a parte un po' l'underlet che è appareggiato in casa un po' a sorpresa, ma per il resto niente di eclatante. E non è venuta neanche la sorpresa nel Palermo, ce l'aspettavamo un po' tutti questo ritorno al gol in trasferta da parte della squadra del Rosonero, ritorno al gol che purtroppo non c'è stato, sesta partita fuori casa senza segnare gol, ma d'altronde come giustamente e onestamente devo dire ho sentito dire all'allenatore del Palermo, a Denis Mangia, effettivamente con quello che c'è in questo momento in mano questo benedetto allenatore, mi sa che sta facendo più di quello che ci si potrebbe aspettare, una squadra senza attaccante, ma in questo caso mancavano altre amicole Nandez, anche Zaravi, un perno al centrocampo come della Rocca in questo momento non c'è, altri giocatori che in questo momento non sono in perfette condizioni come lo stesso unico attaccante Piniglia. È un peccato, ripeto, che questo Palermo si stia trovando in queste condizioni, perché in condizioni diverse basterebbe semplicemente un attaccante efficiente e soprattutto in trasferta e magari con qualche rinforzo in più sicuramente avrebbe potuto fare qualcosa di più. Vero è, lo ricordo sempre, Palermo in queste prime trasferte di campionato ha incontrato squadre forti, cioè le prime, le più forti le ha tutte incontrate in Palermo in trasferta. Adesso sta cominciando a venire qualche punto fuori casa, uno l'aveva già preso con la Lazio, che non è certamente un punto di poco conto, visto come sta andando la Lazio. Un altro l'ha preso sul campo del Parma in una serata nella quale non si doveva assolutamente giocare. Io non capisco com'è che possano ancora continuare ad esserci cose di questo genere. Non c'erano condizioni di poter assistere a uno spettacolo per il quale il pubblico aveva pagato il biglietto e per il quale chi è abbonato e ha il diritto di vedere uno spettacolo in televisione non lo ha potuto vedere. Secondo me a chi di dovere in questi casi bisognerebbe mandare da parte di tutti coloro, a cominciare da quelli che sono andati allo stadio, loro bene o male potevano anche decidere. Ma comunque in ogni caso proteste bisognerebbe farle per avere almeno il risarcimento di ciò che uno non ha potuto vedere. Perché giocare in quelle condizioni è davvero proibitivo e soprattutto non ci si capisce nulla. E soprattutto vengono penalizzati gli spettatori, sia quelli allo stadio sia quelli delle televisioni. Chi prende queste decisioni secondo me dovrebbe essere un pochettino più attento, anche perché non è che ci vorrebbe poi tanto. Scusatemi, qual è il motivo per esempio di in periodi come dicembre, da dicembre in poi, anche a gennaio sicuramente capiterà, di evitare che in posti dove è possibile che sia la nebbia si giochi di sera? Bastava per esempio invertire le partite dell'ora di pranzo, per esempio, a Catania o a Palermo, in tanti posti d'Italia sappiamo che è difficilissimo che ci possa essere la nebbia di sera. Bastava per esempio spostare e mettere la partita del Catania in casa contro il Cagliari delle 12 e mezzo, spostarla magari alla sera e viceversa, quella del Palermo, di Parma, diciamo sì, si giocava alle 12 e 30 e si evitava magari questo rischio, un rischio che potrebbe benissimo ricapitare nelle prossime occasioni. Bastarebbe un pochettino starci un po' più attenti e magari certe cose si eviterebbero. Comunque, non mi dilungo ancora, abbiamo diverse cose di cui parlare. Partirei dal Palermo, anche se ne abbiamo già in qualche maniera parlato un po' di questa squadra rosa-nero che ha accolto un altro punto, il secondo punto stagionale fuori casa, ancora una volta per 0-0, dopo lo 0-0 che aveva conquistato sul campo della Lazio. Un Palermo che comunque avevamo detto in qualche maniera che ci piaceva questa doppia X2, queste sono le quote delle partite del Palermo della settimana scorsa, questo X2 quotato a 1,68 ci piaceva davvero tanto, anche perché contavamo sul fatto che il Palermo qualche gol finalmente fuori casa lo mettesse a segno e quindi davamo un certo vantaggio a una squadra rosa-nero, almeno per il pareggio, segnando 1-2 gol fuori casa. Invece il pareggio è venuto, anche se per 0-0, ma era davvero ben pagato a 1,68 questo doppia X2. Tra l'altro mi è un po' stupito questa quota, anche perché non era un segno 1 che avesse una quota schiacciante a favore come pronostico per il Parma. Quindi una doppia X2 a 1,68 con quota di questo genere ci stava davvero tutta. A parte il fatto di fare più o meno per il Palermo. Un Palermo che a questo punto del campionato, quando siamo giunti alla quattordicesima, vi ricordo che qui in questa schermata mostriamo sulla parte destra la stagione attuale, su quella sinistra la stagione precedente e facciamo un confronto. La stagione scorsa il Palermo aveva 23 punti quando eravamo alla quattordicesima giornata, quest'anno ne ha soltanto 20, cioè 3 in meno, però ricordiamo che si deve recuperare, e questo avverrà tra pochissimo, si deve recuperare la prima giornata di campionato. Il Palermo l'anno scorso di questi tempi andava bene, aveva chiuso un filotto di tre vittorie consecutive contro il Catania, contro il Cisena e contro la Roma, però poi chiuse il campionato, il giornale di andata, con una sconfitta a Napoli, due vittorie in casa contro Parma e contro Sampdoria, e due pareggi fuori casa contro Bari e Chievo. Adesso il Palermo, prima di chiudere il giornale di andata, dovrà incontrare il Cisena in casa questo sabato sera, fuori casa poi ci sarà il derby contro il Catania, in casa giocherà contro il Napoli, fuori casa a Verona sul campo del Chievo, e poi chiuderà il campionato, il giornale di andata, scusatemi, con il ricotto casalingo contro il Genoa. Un Palermo, ripeto, che come vedete i numeri sono diversi, zero in questo riassunto, diciamo sì, del Palermo. Casa, sei vittorie, nessun pareggio, nessuna sconfitta, fuori casa, zero vittorie, due pareggie, cinque sconfitte, ma soprattutto questo antipaticissimo zero per quanto riguarda i gol fatti fuori casa da parte della squadra rosa-nero. L'anno scorso, di questi tempi, il Palermo fuori casa aveva già fatto ben 11 gol, vedete, fatti fuori casa 11 gol, ma ne aveva subiti anche altrettanti. Quest'anno nessun gol fatto e nove gol subiti per la squadra rosa-nero. Un Palermo che, come vediamo dal suo cammino, adesso ha interrotto una serie negativa di quattro sconfitte consecutive fuori casa, pareggiando appunto a Parma, ed è un Palermo che comunque, vi ripeto, e questo è da sottolineare, fuori casa quest'anno ha già incontrato molte squadre piuttosto toste. Tenete presente che l'Atalanta, pur essendo a 15 punti, ne ha recuperati 6, quindi l'Atalanta sul campo di punti ne ha conquistati 21. In questo momento l'Atalanta, senza la penalizzazione, sarebbe addirittura avanti al Napoli. Quindi il Palermo, fuori casa, ha incontrato l'Atalanta, che come punti di giro sarebbe prima del Napoli in classifica. Ha incontrato la Lazio, che adesso è a quota 25. Ha incontrato il Milan, che è a quota 27, secondo in classifica. Ha incontrato la Roma, che anche se sta andando male, è sempre una squadra di rango medio-alto. Ha incontrato l'Udinese, secondo in classifica. Ha incontrato la Juventus, prima in classifica. Cioè il Palermo, fuori casa, ha incontrato queste squadre finora. La prima squadra, diciamo sì, di metà classifica è stata appunto il Parma. E, nonostante fosse molto rimaneggiato, il Palermo è riuscito a pareggiare fuori casa a Parma. Il prossimo avversario del Palermo sarà il Cesena. Questo è il cammino della squadra Cesenate, che aveva recuperato un po' di punti nelle precedenti due partite di campionato. contro il Bologna e contro il Genova aveva vinto, però poi ha perso contro la Juventus nell'ultimo turno appunto di campionato. Un Cesena che sinora in trasferta ha vinto una sola volta, proprio sul campo del Bologna, non ha mai pareggiato in trasferta questo Cesena e ha perso le altre cinque partite. Questo per quanto riguarda il prossimo avversario della squadra, Rosa Nero. E queste sono le evidenze che il nostro computer ci ha messo in risalto per quanto riguarda appunto questa prossima partita del Palermo contro il Cesena. Un Palermo che in casa ha fatto un solo pareggio nelle ultime 22 partite, quindi una squadra che ha pareggiato pochissimo, tant'è che ha fatto anche due soli pareggi nelle ultime 19 gare che il Palermo ha disputato. In casa il Palermo però vince da sei partite. ha fatto sinora un solo gol-gol nelle ultime 10, vi ricordo che gol-gol significa partita nella quale entrambe le squadre segnano almeno un gol. In casa il Palermo segna da 11 turni, sempre in casa ritarda la somma gol 0-1 che coincide chiaramente con l'under 1,5, ritarda il Palermo in casa l'under 1,5 da 10 partite, quindi nelle ultime 10 gare in casa il Palermo ha chiuso le partite con una somma gol maggiore di 1, quindi over appunto 1,5. Inoltre il Palermo ritarda il segno 2 da 13, ritardare il segno 2 vuol dire che il Palermo non perde in casa ma non vince neanche fuori. E adesso per quanto riguarda il Cesena, il Cesena ritarda l'over da 10 partite ed è un ritardo di attenzione notevole, quindi sabato sera al Barbera si preannuncia una partita con parecchi gol. Fuori il Cesena ha segnato una sola partita nelle ultime 6, anche questo è statisticamente un fatto che manca da parecchio, anche perché tenete presente che non ci sono squadre proprio materasso in Serie B quest'anno. Fuori casa il Cesena non pareggia da 9 e fa l'altro è una squadra nella quale ritarda la somma gol 4 o più, che significa over 3,5. Il Cesena ritarda over 3,5 da 12 partite. Inoltre fuori casa ritarda il gol gol da 6, quindi questo gol gol ritarda al Cesena, ritarda in qualche maniera anche al Palermo, quindi è un gol gol volendo a questo punto da preferire nelle vostre pronostici. Fuori il Cesena ritarda l'over da 6 e ritarda il gol gol in genere, quindi parlando di tutte le partite, non soltanto quelle in casa o solo quelle fuori casa, ritarda in genere il gol gol da 5. Tra l'altro il Cesena è la squadra che ha fatto più under, ben 11 under fino a questo momento. L'epilogo della classifica, dopo che si è giocata la partita di Roma tra Lazio e Novara, partita vinta tra Lazio per 3 a 0, la nuova situazione di classifica, quando siamo giunti alla quattordicesima del campionato, vede sempre una sola scorsa in battuta la Juventus, che è in testa con 29 punti, poi Milan e Udinese a quota 27, segue la Lazio a 25 e il Palermo insieme al Napoli, in questo momento al quinto posto a quota 20. Migliore attacco continua a essere quello del Milan, che è a quota 29 gol fatti, la migliore difesa è quella dell'Udinese, che ha vinto anche fuori casa sul campo dell'Inter ed ha subito soltanto 6 gol fino a questo momento. In classifica ricordiamo che manca sempre una partita, quella che si deve recuperare tra Genoa e Inter, si recupererà il 13 dicembre, se non va della testa lo vediamo meglio, perché c'è appunto la grafica che me lo ricorderà. Questi sono appunto i risultati dell'ultimo turno di campionato, e da notare che per quanto riguarda i maggiori ritardi, ha la migliore serie positiva la Juventus, che non perde chiaramente da 13 turni, in effetti non perde da più tempo, perché non ha perso neanche nell'ultima di campionato, dell'ultimo del campionato scorso, quindi sono 14 almeno le partite che l'Udinese non perde, mentre non pareggia adesso da 10 turni la Roma, quindi la squadra nella quale il pareggio ritarda da più tempo. Per quanto riguarda il ritardo di vittorie, non c'è nessuna squadra che ha un ritardo notevole, il ritardo maggiore addirittura è di sole tre settimane, e quindi neanche da mettere in qualche maniera in evidenza. Attenzione perché Cesena, rispetto a tutte le altre squadre della Serie A, sinora ha segnato pochissimi gol, soltanto sei, prima o poi questi ritardi si alzerano, speriamo che non cominci Cesena giusto da questo sabato sera qui sul campo del Palermo. Come sono andate le cose la settimana scorsa? Beh, innanzitutto la scommessa che avevo suggerito, purtroppo non è andata a buon fine, è giusto che ve lo dica, ho preso, non ho sbagliato la somma colpare di Palma-Palermo perché si aspettava questo pareggio, abbiamo sbagliato l'over di Livorno-Verona, non sono bastati due gol in trasferta del Verona per far venire questo over in questa partita, abbiamo preso invece l'over di Varese-Brescia, partita che è finita addirittura due a due, ben quattro gol. Sono andati bene tutti e due invece i suggerimenti alternativi che avevo proposto, cioè Bologna-Siena, vi dissi che se c'era un segno che non vi piace di questi potevate sostituirlo con l'uno di Bologna-Siena che è venuto ed era pagato bene a due, dieci, oppure con il no-goal di Juve-Stabi-Gubbio che era pagato a un'85 ed è venuto pure. Quindi chi magari ha sostituito l'over del Livorno con uno di questi due, magari la giocata non l'ha persa. Così come non ha perso di vincere ancora una volta un sistemino di appena 120 euro giocato nella recitoria Gumina, Biagio Gumino in via Comandante Simone Guli, dove forse hanno fatto un po' tesoro dei suggerimenti che vediamo sempre. Quando c'è una partita che vedete da pareggio, per esempio, Parma-Palermo era una di queste, così come alcune partite della Bundesliga, di non giocare l'X ma giocare la somma gol pari. Tanto si vince lo stesso alla fine. Di meno, ma si vince lo stesso. In questo caso Friburga-Nover addirittura è venuto il pareggio, così come è venuto il pareggio in Casaslauternet-Tabellino, è venuto il pareggio in Stoccarda-Colonia, è venuto il pareggio in Parma-Palermo, ma vi ricordo che la somma gol pari si può prendere anche se non viene il pareggio e vince una delle due squadre con due gol di scarto. Quindi 3-1, 2-0, eccetera. Si può sempre prendere la somma gol pari. In questo caso addirittura sono venuti tutti e quattro pareggi. In più l'uno dell'International Gremio, contro il Gremio, stiamo parlando del Brasile, il campionato brasiliano doveva forza vincere, questo International in effetti ha vinto. Così come doveva vincere il San Paolo con Cessanto, su due quote interessanti a 1,70, insomma questi quattro somma gol pari più le due vittorie dell'International del San Paolo hanno fatto vincere a questo sistema nel quale venivano messe in gioco soltanto le 6 cinquine, una vincita di 2.150 euro, quindi un quinto ha vinto 430 euro, un decimo vince 215 euro. Sempre la settimana scorsa, questa è la scremata nella quale vi dicevo come avrei giocato io per vincere 1.000 euro. La maniera più semplice, più facile, e avendo più disponibilità, se avessi giocato 1.000 euro sull'uno del Valencia e l'uno del Grego Furter sarebbe andata bene perché hanno vinto tutti e due e con questi 1.000 euro ne avrei incassati 2.000 e avrei raggiunto lo scopo di vincere 1.000 euro. Se invece avessi giocato avendo soltanto 445, io avrei giocato questi due risultati e mi avrei sbagliato perché il 2.000 è venuto, tra l'altro era pagato pure molto bene per essere il tipo di partita, insomma. Avrei perso per l'over di Juventus-Cesena che ci sono stati soltanto due gol e che ci avrebbe fatto appunto sbagliare. Mentre con una puntata un po' più piccola se avessi avuto solo 265 euro per vincerne 1.000 avrei giocato questi tre risultati e sarebbe andata bene perché ha vinto l'Atletico Madrid 1.55, ha vinto il Lione a 1.67 e il gol della Juve Stabia a 1.85. Questi tre risultati avrebbero fatto vincere 1.265 euro, ne avrei giocati 2.65, avrei raggiunto lo scopo. Mentre invece con i 121 euro dell'ultima più difficile puntata non sarebbe andata bene perché avremmo sbagliato sia l'over del Livorno che l'over della Juventus. È andata bene invece per i suggerimenti della Bundesliga? Benissimo direi perché in Bundesliga vi avevo segnalato soltanto l'1.30 di Bayern Monaco per De Brema. Vi ricordate? C'era questo errore nella quota che l'ho lasciato ma in effetti questa quota era sbagliata era invertita diciamo quindi non considerata questa quota dell'1 del Bayern Leclus era l'unico errore che c'era in questa schermata. Comunque è stato preso l'1 del Bayern Monaco a 1.30 era pagato poco ma non c'erano altre quote che ci piacevano. E poi ci piacevano molto appunto i pareggi del Friburgo del Casaislautern e dello Stoccardo tante che ve lo suggerì e in questo caso in Bundesliga addirittura quattro suggerimenti tutti e quattro sono stati presi da coloro che ci hanno dato un po' di fiducia. Tra poco diamo uno sguardo ai campionati esteri i quattro principali campionati esteri Germania, Francia, Spagna e Inghilterra. Prima vi ricordo di Market Moda aperti anche la domenica con un ampio parcheggio in via Croce Rossa 232 che è una traversa di via Resultana scontri del 30% da Market Moda sempre e costantemente e a parte le taglie forti che arrivano fino al 94% sono anche le taglie normali o piccole a partire appunto dalla 42 calzature di grosse dimensioni anche per quanto riguarda sia l'uomo fino alla misura 53% che la donna fino alla 47% tutto questo ripeto Market Moda in via Croce Rossa attraversa di via Resultana andiamo a vedere in Premier League cosa è successo non ci sono stati risultati particolarmente sorprendenti tranne la sconfitta del Liverpool di lunedì sera nel posticipo sul campo del Fulham sconfitta che è maturata negli ultimi minuti a parte questo per il resto il Manchester ha vinto contro il Norwich per 5 a 1 il Manchester United ha vinto di misura sul campo della Stonville insomma non ci sono stati risultati molto sorprendenti l'unica squadra in battuta resta ancora il Manchester City che è in testa a quota 38 seguito a quota 33 dal Manchester United non ha ancora pareggiato il Bolton che comunque ha addirittura un ritardo del pareggio che è arrivato a quota 24 considerando anche le ultime giornate del campionato precedente quindi ritardo del pareggio per il Bolton dai 14 turni di questo campionato più 10 partite dell'ultimo campionato che si è giocato in Inghilterra terra altri ritardi ritardo da 13 turni l'Ix nel Tottenham e nell'Everton mentre non perde da 16 turni in Manchester City le 14 partite di questo campionato più 2 del campionato precedente andiamo a vedere adesso in Spagna Liga Spagnola che orfana anche qui anche questa insomma un campionato che manca di un risultato cioè quello tra Granada e Mallorca il Real Madrid continua in partire della sua marcia hanno vinto tutte e due alla grande Barcellona 5 a 0 al Levante che è quarto in classifica il Real Madrid fuori casa è andato a vincere mi pare 3 a 0 vediamo dov'è il risultato del Real Madrid eccolo qua sul campo dello Sporting Giorno ha vinto per 3 a 0 continua quindi a condurre il Real Madrid con 4 punti di vantaggio su Barcellona poi c'è il Valencia quota 30 il Levante a 26 via via tutte le altre squadre di particolare c'è da notare che il Real Madrid praticamente non pareggia da 10 non perde da 11 vuol dire che ha vinto le ultime 10 partite che ha giocato per il resto manca il pareggio al Levante da 12 partite non vincono da 10 turni il Real Betis e da 7 turni il Saragozza da notare che il migliore attacco è quello del Real Madrid nella Liga Spagnola ha segnato 49 gol mentre la migliore difesa è quella del Barcellona che di gol ne ha subiti 7 in Bundesliga è tornato in vetta nuovamente il Bayern Monaco adesso è a quota 31 ha approfittato del pareggio nello scontro diciamo sì diretto che c'è stato nell'ultimo turno del campionato tra appunto il Borussia 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 Mönchengladbach e il Borussia Dortmund hanno pareggiato 1 a 1 erano le squadre che erano in testa della classifica Bayer Monaco ha vinto 4 a 1 contro il Verder Brema ed è tornato in vetta alla classifica Bayer Monaco che continua ad avere il migliore attacco e tra l'altro di gran lunga migliore attacco 38 gol fatti e anche la migliore difesa 9 gol appena subiti da parte del Bayern Monaco da notare per quanto riguarda la Bundesliga non pareggia da 7 turni appunto il Bayern Monaco mentre la serie positiva più lunga è quella della Borussia Dortmund che non perde da 9 partite andiamo ancora avanti chiudiamo con la Liga Francese dove c'è in testa il Montpellier a quota 36 Montpellier che ha stracciato l'Oriente con un secco 4 a 0 a una squadra di metà classifica quindi la squadra più informe in questo momento è proprio Montpellier in Francia seguito dal Paris Saint Germain che a stento ha vinto sull'Oxer per 3 reti a 2 per il resto il Lille a quota 31 il Lione a quota 29 anche il Lione ha faticato per battere il Tolosa ma il Tolosa è una squadra abbastanza tosta e non a caso è al sesto posto in classifica comunque il Lione ha vinto 3 a 2 contro il Tolosa questa è la situazione quindi 3 punti di vantaggio per il Montpellier sul Paris Saint Germain segue al terzo posto il Lille a quota 31 via via tutte le altre come ritardi diciamo che non vince da 11 partite l'Aiaccio ma che è comunque ultimo in classifica quindi è un ritardo che diciamo ci sta non è detto ripeto che torni a vincere abbastanza presto questo Aiaccio perché si vede che è troppo debole rispetto a tutte le altre squadre ha già 6 punti di stacco dal penultimo posto poi non pareggia da 13 turni il Lione e non perde da ben 14 partite il Lilla questo per quanto riguarda le serie principali andiamo a vedere anticipi e posticipi di queste prossime giornate di campionato quando mancano appena 4 minuti alla fine della trammissione quindi veloce e volevo parlarvi anche del sistema di autocalcio è giusto che lo faccia allora per quanto riguarda anticipi e posticipi questa settimana 4 partite di sabato ci saranno 2 alle ore 18 Siena Genoa e Lecce Lazio 2 alle 20 e 45 Palermo Cesena e Cagliari e Parma per il resto domenica domenica sera c'era Novara Napoli mentre lunedì sera si giocherà la partita che dovrebbe essere il big match della giornata tra Roma e Juventus ricordiamo che martedì 13 dicembre si recupera Genoa Inter che tra martedì 20 e mercoledì 21 si recupererà la prima giornata di campionato che non era stata giocata per via dello sciopero un omaggio alla capolista Juventus questo è il cammino della squadra bianconera riduce da 3 vittorie consecutive e non ha ancora perso una partita in questo campionato ancora per quanto è arrivato alla Juventus volevo farvi notare che la squadra bianconera rispetto all'anno scorso questo punto sono di nuovo confronto fra due stagioni l'anno scorso qui a sinistra e a quella attuale a destra l'anno scorso la Juventus di questi tempi cioè la 14esima giornata aveva 24 punti questa è la linea di demarcazione appunto della 14esima giornata mentre quest'anno ha già 5 punti in più rispetto all'anno scorso ne ha 29 punti di punti della Juventus quest'anno e addirittura deve ancora recuperare la prima di campionato fuori casa anche se sarà una partita tosta perché sarà una partita fuori casa sul campo appunto dell'Udinese questo è il cammino della Juventus vado veloce perché volevo appunto parlarvi almeno anche del totocalcio allora vi segnalo soltanto questa cosa velocemente anche se avremo modo di parlarne di queste cose anche nella prossima trasmissione da venerdì in poi Parma fuori casa non ha mai fatto somma gol pari tutte queste volte somma gol disperi Parma giocherà fuori casa a Cagliari il Cesena che sarà il prossimo ospite del Palermo fuori casa finora mai ha fatto over 6 under 0 over e mai ha fatto gol gol 6 no gol 0 come gol questo per quanto riguarda under over casa e fuori casa della Serie A questa è la classifica della Serie B scusatemi se vi tolgo questa cosa perché ripeto ci sono due minuti di soltanto di trasmissione volevo appunto scusate vado avanti con le pagine questa è la colonna vincente della settimana scorsa di sabato scorso volevo parlarvi di questo discorso del sistema del totocalcio perché abbiamo deciso proprio in chiusura di settimana sul suggerimento in particolare della Recivitoria Amico quando giovedì sera abbiamo visto che non c'erano state neanche giovedì sera c'erano stati 14 nel concorso intrasettimanale c'era quindi un jackpot al totocalcio che valeva la pena di non essere trascurato anche se non avevamo ancora raggiunto le 20 quote con la Recivitoria Amico avevamo visto un pochettino di concordare se potevamo sfruttare almeno le persone che sfruttare nel senso diciamo sì utilizzare ciò che avevamo siamo a disposizione per poter fare il sistema è stato fatto qualche persona ha preso due quote anziché una soltanto proprio per riuscire a giocare il sistema per evitare di non giocare per il jackpot che c'era sabato sera e quindi ho dovuto fare le cose un po' di fretta e questo ha creato un pochettino di qualche disagio perché praticamente nell'arco di una giornata ho dovuto diciamo sì fare quello che normalmente avevo fatto in molto più tempo quindi non sono stati dati per esempio i tabulati delle scritture giocate cosa che invece avrei voluto fare e questo per molti non è stato possibile soltanto a una recepitoria alla recepitoria di Franco e anche alla recepitoria Gumina dove sono state fatte le fotocopie insomma un po' di disagi ci sono stati che comunque sono stati superati vi posso garantire a tutti coloro che stanno partecipando che da questa settimana tutto ciò sarà risolto in modo migliore e soprattutto già da venerdì avremo tutto quanto disponibile volevo ancora ricordarvi velocemente ci sono soltanto le ultime tre settimane però se qualcuno è ancora interessato a qualche quota di un ventesimo e ancora si faccia diciamo si si faccia sentire insomma in una delle tante ricevitorie che ci sono perché ancora qualche quota è disponibile perché ripeto qualcuno ha preso due quote ma preferirebbe insomma non essere così impegnato per il resto delle prossime tre settimane perché adesso ripeto mancherebbero soltanto tre settimane questo per quanto riguarda tutto calcio che tal'altro non è andato a buon fine per diversi motivi che comunque saranno spiegate a tutti coloro che stanno partecipando avremo oltre a dare le fotocopie delle schiene giocate questa settimana daremo anche spiegazioni su quali sono le condizioni che non sono andate a buon fine ci risentiamo durante il corso della settimana abbiamo appunto modo di parlarne anche da venerdì in poi comunque il sistema si farà anzi già venerdì sarà già pronto nelle ricevitorie e già siamo già in chiusura grazie a Roberto Scoione ci vediamo la prossima puntata di Tutto Market Scommesse sì